Prosegue la battaglia di Eleonora Iacono, fondatrice dell'Associazione La Gattara, che nella frazione di Ponte Arlapiera, siamo nel comune di Anghiari, Valtiberina, Toscana, ospita in un terreno privato circa 25 gatti. Recentemente, in seguito ad una segnalazione, è stato riscontrato, l'intervento sarebbe stato dei carabinieri forestali, un abuso edilizio. In seguito al presunto illecito, il comune ha emesso un'ordinanza di demolizione di quello che chiameremo impropriamente rifugio, di fatto un casottino di legno in un terreno agricolo privato. Ad essere chiamato in causa, dunque non solo da Eleonora, ma anche dalle tante associazioni che si sono schierate dalla sua parte, è stato il comune di Anghiari che risponde, dicendo che sarebbe stata proprio Eleonora e altre persone a suo tempo a rifiutare l'affidamento di quella che sarebbe diventata una colonia felina, censita, quindi pubblica. Oggi questi animali possono essere qualificati come gatti di proprietà. Intanto grazie per l'intervista. Sì, premetto che conosco bene Eleonora e apprezzo moltissimo quello che fa per i gatti, quindi è una vera risorsa per il nostro comune, su questo non c'è niente da dire. Nello specifico però ricordo che la tutela dei gatti, delle colonie feline, ha uno specifico ITER che nel caso specifico non è stato concluso. Quando io mi sono insediata come assessore era già stato fatto dal comune di Anghiari il censimento delle colonie feline, ai quali dopo più di un anno, devo dire, quando mi sono insediata ho provato a dare seguito con l'affidamento delle colonie feline. A questo punto alcune gattare, alcune persone che avrebbero dovuto prendere in affidamento le colonie hanno rinunciato perché prenderle in affidamento comporta anche dei doveri, degli obblighi verso il comune, verso le colonie stesse. Tra queste vi era anche Eleonora Iacono, per cui allo stato attuale delle cose è bene chiarire che la colonia da lei gestita si configura come gruppo di gatti privato, sul terreno privato e non come colonia tutelata dal comune. Sul caso abbiamo sentito anche l'azienda sanitaria competente in caso di colonia censita per l'attività veterinaria, tra cui ad esempio le sterilizzazioni che comunque avvengono nel comune capoluogo. È il sindaco, ci conferma il dottor Fabio Parca, responsabile del servizio veterinario dell'ASL Toscana Sud-Est, a dover richiedere il riconoscimento della colonia felina, cioè il censimento dei felini randaggi nel proprio territorio. La gestione può poi essere effettuata o in proprio o, come ad esempio accade ad Arezzo, grazie alla collaborazione con specifiche associazioni o privati, ma i gatti devono comunque rimanere in territorio pubblico. A seconda quindi della scelta dei vari comuni, conferma Parca, ci saranno più o meno colonie censite. A Sansepolcro ci dice non ce ne sono ad Anghiari un paio. La questione dell'abuso edilizio ovviamente ha un'altra strada che prescinde dal riconoscimento della colonia felina e per la quale Eleonora sta valutando il ricorso al TAR, ma per quanto concerne il benessere dei gatti, arriva la mano tesa da parte del comune di Anghiari. Allora, in questo caso inviterei senz'altro Eleonora a confrontarsi con le istituzioni, lei ha il mio numero di telefono, ci siamo parlati tantissime volte, sì, ho adottato anche una gattina da lei, quindi ci conosciamo bene. Quindi io la inviterei nel caso a contattarmi, senza dubbio cerchiamo una soluzione insieme. Ovviamente andrebbe perfezionato l'iter di riconoscimento, censimento e affidamento della colonia felina e a quel punto potremmo veramente insieme mettere le energie necessarie a attivare qualche forma di protezione. È vero che in questa zona siamo un po' indietro, questo lo riconosco, ma è appunto invece che farsi le guerre a vicenda, bisognerebbe lavorare tutti insieme per la tutela degli animali. Un'idea sarebbe quella di un gattile consorziale dell'Unione dei Comuni della Valtiberina. È un'idea sulla quale ci siamo già confrontati, ma non ancora a livello istituzionale. Quindi in questo caso mi farebbe molto comodo l'aiuto di tutte le persone coinvolte.